Ciao e bentornati sul mio canale per Natale. Oggi sono qui con mia sorella e vi presento questo trucco per le feste natalizie o anche per capodanno, molto intenso sugli occhi con questa bella sfumatura marrone e con dei glitter color rame. Inizio preparando gli occhi. Come base utilizzo il Paint Pot della MAC nel colore Soft Oak, che è uno dei miei preferiti in quanto molto leggero, di un colore neutro e che va a illuminare la palpebra, eliminando tutte le discromie, come i rossori, le penuzie che compaiono quando siamo particolarmente stanchi, ci aiuta ad illuminare gli occhi. E lo sto stendendo con un pennello duo fibre. Lo applico anche nella parte sottostante l'occhio. E adesso inizio con l'ombretto. Applico l'ombretto opaco della MAC nel colore Orange e lo sto applicando sempre con un pennello della MAC 217, che è uno dei miei pennelli preferiti per andare diretti nella piega dell'occhio. Quindi parto dalla parte esterna e lo sfumo sofficemente verso l'interno. Una volta applicato il prodotto utilizzo un pennello morbido da sfumatura per sfumare il tutto. E ripeto l'operazione più volte per rendere il colore più intenso. Quindi applico sempre il prodotto con il 217 della MAC e poi con un pennello morbido da sfumatura, io sto usando uno della Make Up Forever a punta rotonda, vado a sfumare il colore di modo da non avere linee troppo nette. Ripeto l'operazione anche sull'altro occhio. E devo dire che ultimamente sto utilizzando molto il colore arancio nella piega dell'occhio, che è un colore che molto spesso viene sottovalutato perché uno magari lo vede e dice ma che ci faccio con questo colore? Invece possiamo creare delle bellissime sfumature per vari tipi di trucco. Adesso sempre prendo un ombretto della MAC nel colore coppering e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile. Quindi vado a tamponare il prodotto sfumandolo un po' verso l'alto. Per intensificare la piega dell'occhio prendo questo marrone caldo che si chiama Swiss Chocolate, sempre della MAC. Ed è anche questo uno dei miei colori preferiti per la piega dell'occhio perché è un bellissimo marrone molto caldo. Quindi lo applico con il pennello che abbiamo usato fino ad ora, 217, concentrandomi particolarmente nella parte finale dell'occhio. E dopo averlo ad applicato lo vado a sfumare con il pennello rotondo che abbiamo utilizzato in precedenza. Dopo l'arcata sopraccigliare vado ad applicare l'ombretto brulè della MAC, che è sempre un ombretto opaco, validissimo, che vi consiglio di acquistare perché potete utilizzarlo in tutti i tipi di trucco. E vado sempre a sfumare i vari colori insieme. Adesso sto intensificando ulteriormente la parte finale dell'occhio, l'angolo esterno utilizzando sempre il colore Swiss Chocolate, questo bel marrone caldo, sempre opaco. Vado a piegare le ciglia e sto utilizzando il piegaciglia della Shue Mura. Adesso andiamo ad applicare i brillantini. Utilizzo una colla duo glue e un fazzoletto sul viso per proteggerla dall'eccessiva caduta di brillantini. Applico la colla con un cotton fioc e aspetto che asciughi 10-15 secondi. A questo punto vado ad applicare i brillantini. Li applico con un pennello a setole piatte e li presso contro la superficie della palpebra mobile. Sto utilizzando dei brillantini della MAC che sono usciti dal set di pigmenti della collezione per le vacanze di Natale che si chiama Herlum Mix. Colgo l'occasione per parlarvi dei set natalisti della MAC. Questi brillantini sono tratti dal set per le vacanze di Natale della collezione Herlum Mix nel colore rame. Sono un acquisto molto conveniente se volete fare dei regali in quanto con soli 26 pound, sono poco più di 30 euro, avrete 4 pigmenti e un glitter e se considerate normalmente solo una boccettina di pigmenti costa 17 pound. Adesso sto ripetendo il procedimento sull'altro occhio e per eliminare i glitter sulle ciglia sto utilizzando un pennellino da mascara pulito. Vado a ricalcare la sfumatura nella parte esterna dell'occhio, questa volta prendo un marrone scuro sempre opaco, con un pennellino appunto lo applico e con il 217 della MAC lo vado a sfumare. con una salviettina imbevuta vado a ripulire i glitter che sono incaduti sul viso, per questo motivo consiglio sempre quando utilizziamo glitter o ombretti super pigmentati di iniziare sempre dagli occhi e infine passare alla base. In alternativa potete utilizzare anche dello scotch perché i brillantini aderiscono perfettamente allo scotch, quindi è un modo molto rapido e semplice per eliminarli dal viso. Adesso per dare un po' di intensità allo sguardo andiamo ad applicare un kajal nero. Io sto usando un kajal della MAC nel colore Feline che è questo bel nero intenso, lo applico sulla palpebra superiore e anche all'interno. Lo vado a sfumare con il pennello a punta utilizzato prima per la piega dell'occhio. Vado ad applicare il kajal anche nella rima interna dell'occhio e nella rima superiore e lo vado a sfumare. Lo applichiamo anche nella parte inferiore dell'occhio e lo sfumiamo. Adesso aggiungo un po' di arancione che ho utilizzato all'inizio nella piega dell'occhio e vado a sfumarlo insieme al nero nella parte inferiore dell'occhio. Dopo aver applicato un po' di mascara, sto usando il manga Luscious della L'Oreal, applichiamo delle ciglia finte. Queste sono le Red Cherry nel numero 43. Ora passiamo alla base. Come fondotinta utilizzo il Face & Body della MAC nel numero N1. Questo, come ben sapete se mi seguite, è uno dei miei fondotinta preferiti, costituito dal 70% d'acqua, quindi super leggero. È stratificabile, quindi se volete una maggiore coprenza potete fare più di uno strato. inoltre è molto... dà un finish molto naturale e fresco ed è un fondotinta che si fotografa benissimo. In più è lunga durata, in quanto è resistente all'umidità e al sudore, quindi una volta che si secca sulla pelle non si muove. E questa è una cosa molto richiesta per queste vacanze di Natale in cui vogliamo un tocco fresco ma a lunga durata. Nel correttore andiamo ad utilizzare lo Studio Finish della MAC nel numero NW25, che è un tono molto caldo, in quanto gli NW contengono queste tonalità arancio che gli NC non contengono. quindi è molto utile per cancellare le zone d'ombra delle occhiaie. Lo utilizziamo in modo molto leggero e poiché è un fondotinta super coprente, fate bene attenzione ad idratare molto bene la zona delle occhiaie, altrimenti sembrerà molto secco. Come polvere andiamo ad utilizzare il Mineralize Skin Finish della MAC nel colore Medium Plus, che è una cipria minerale molto leggera, dà un finish super naturale ed una delle mie cipre preferite, minerali. Andiamo a fare un po' di contouring e sto utilizzando questo colore opaco, marrone opaco, dalla mia palette della Sleek nel colore Medium. Quindi mi porto nell'impostatura delle guance, sotto la mascella, sfumo ben bene il colore, concentrandomi soprattutto all'estremità. ne applichiamo un po' anche ai lati del naso per renderlo più piccolo e sottile. E adesso passiamo al blush. Sempre da una palette della Sleek, prendo questo bel colore arancione opaco, lo applico sulla parte alta delle guance, sfumandolo verso l'esterno. Andiamo a preparare le labbra dopo aver applicato un primer labbra. Utilizzo la matita della MAC Boldly Pear, che è una delle mie preferite per realizzare dei trucchi super naturali. Adesso come rossetto applichiamo sempre della MAC il Kinda Sexy, che è un finish matte, sempre rientra tra i miei preferiti. Molto utilizzato da Kim Kardashian e adatto per questi trucchi super intensi sugli occhi, perché nonostante sia un rossetto opaco e naturale, ha questo bel tono color pesca che non ci cancella totalmente le labbra. Adesso sto andando a definire le sopracciglia, cosa che avrei dovuto fare all'inizio, ma poiché mia sorella ha delle sopracciglia abbastanza definite, ho preferito lasciare questo step alla fine del trucco. Sto utilizzando la matita della MAC nel colore brunette, che è una matita che si estrae da sola e dopo aver dato la forma, quindi vado a delineare quasi una linea al di sotto delle sopracciglia e vado a colorarle con piccoli trattini per dare un effetto più naturale. Dopo aver finito questo processo utilizziamo uno scopellino da mascara pulito per sfumare il tutto. Per creare un punto luce all'interno dell'occhio vado ad utilizzare dei brillantini sotto forma di eyeliner, questi sono della Glam Crystal Collection 2000 nel colore dorato, quindi le applico leggermente come state vedendo nell'angolo interno e li sfumo con il pennellino che abbiamo utilizzato in precedenza per i brillantini. Questa era mia sorella prima all'inizio del trucco e questa è la trasformazione finita. Io spero vi piaccia questo trucco e che possiate realizzarlo per le vacanze di Natale, di Capodanno o anche per una serata, perché no? Come sempre condividete il mio video, se avete apprezzato date i miei pollici all'insù e iscrivetevi al canale. Alla prossima, un bacio e buone feste!